...questo marcio alla persona importante di questo comitato e di questa palazza. Ma esce, due attenti cortesemente. Avanti. Festa di barra GD2000 all'amico Ravrella Ambrosanio, detto Manifier, il ricordo del nostro cinquantesimo anno dell'insuperabile di amicizia, Ciro Pozzolino da Milano, edita alla sua palazza. Omaggi, pazzi, fiori, pazzi, e le vendicature di questa giornata, che è una vera, 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 una vera. Grazie a tutti. Il nostro bravo vuole salutare la Valencia a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.